Ragazzi, eccoci qua, prendiamo le informazioni che ci serviranno per capire chi è meglio, Boston Reed, e sapere come eliminarlo. Attivo il drone, ne ho un altro, sono cinque, ne vedo uno con i mitra, c'è neanche uno nascosto qua dentro, ecco, c'è un bersaglio con mitra, che tanto quello è andato, ci provo? Bersaglio a terra, è andato. Roger, raggiungo una posizione, raggiungo una posizione migliore. Roger, bersaglio margato, pronto ad andare. Storia. Storia. Bersagli marcati, qualcuno è nervosetto. Occhi sul bersaglio. Hai i tuoi ordini, capo. Ingaggio. Bersaglio a terra. Abbiamo finito, tutto ok? Andiamo a prendere le informazioni. Qualcosa? Forse. Sono gli orari di lavoro di uno dei controllori di volo all'aeroporto di Coani. Guarda caso, questo tizio è sempre di turno quando è pianificato un volo del cartello. Che coincidenza. Troviamo questo tizio e scopriamo cosa sa di Reed. Perfetto. Andiamo a prendere le prossime informazioni. Faremo trovare... Oppure, potrei anche già dedicarmi a questa missione. Anche se... Preferisco prendere prima tutti i dati e poi... No, possiamo anche andarci direttamente. Ok, ci vediamo alla vicina, ragazzi. Ok, eccoci. Cazzo, c'è. C'è davvero tanta gente. Ma ci sarà il modo di rientrare. Stelt. Quattro, tre. Dai, venimi. Molte grazie. Allora, l'entrata, direi di farla, però. Di cubirla. Ah, com'è che gli ha detto io, amico? Bersagli marcati. Aspetto l'ordine. Ok, bersaglio marcato. Bersaglio acquisito. In attesa. Temico a terra. Perfetto. Ci sono un po' di Sam in giro. Ehi, c'è un arco. Dove c'è il posto di blocco? Sono dieci bersagli. Uccisione. Ok, a posto. Ok. Occhi aperti. Un arco armato di mitra. Dove c'è la cassa dell'attrezzatura? Ma questo è dietro di me? Allora, dall'altra parte. Elicottero in arrivo. Che cosa ti stai facendo scoprire? Ma che cazzo ci fa qui? Ma non è spottato in mappa. Ma scusate, non è mica spottato in mappa. Tutto ok, tutto ok. Ma che cazzo era? Sì, è vero che il sogno se le da meglio repartire flomazzo che lana. Bene. Hanno degli allarmi attivati. Uccisione. Ok, ancora tutto bene. Uccisione. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ok, che ansia. C'è un'arma fissa. Abbiamo un'arma fissa. Versaglio abbattuto. Un attimo, ti scopriranno. No, sì, io me ne vado io prima. No. Calma, va tutto bene. Elicottero dell'unità, giù. Dove? Giù, a terra, elicottero. Ah, è là, vabbè. Temico a terra. Per un peso. Ok. Piano, cammino. Lasciatemi stare. Ok, a posto. Por favor, che chiede? Es de Santa Blanca. Unidad. Che cosa volete? Lavori con Boston Reed. Non serve negarlo. Ti farai solo del male. Ta bien, ta bien. Come volete? Voglio sapere i suoi movimenti. Dove va più spesso? A Media Luna, pues. A esta qui, esattamente. C'è una pista di atterraggio dove fa le sue consegne. Quando il jefe Reed incontra un nuovo compratore, mi fa mandare un codice al compratore a Media Luna attraverso la rete. Poi lo incontra sulla pista per recuperare il carico. Dammi il codice. Poi fammi vedere il computer che usi. Está bien, está bien. È proprio qui. Codice inviato. Andiamo alla pista di atterraggio. Dobbiamo arrivare fino a Media Luna, capo. Avevo un altro piano. Uno di quei rottami dovrebbe avere abbastanza carburante. Gli uomini di Reed non sparerebbero agli alleati e il compratore non si aspetterà di vederci. Qualcuno ha paura di volare? Oh caccherola. Bersaglio abbattuto. Bersaglio a terra. Ok, tutto fatto. Nemici nell'area, in campana. Ho avvistato due narcos, vicino al container. Hermano, piensenlo. Sacchemi da qua. Questa supermercata è una buona obra di darci al cielo. La rebelione si acordarà di voi, hermano. Non si confie, però muovisi già, hermano. Tu sei rebeli. Non è una luce di lì. Sono della rebelione. Sacchemi. Hacchelo corretto. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Pensé che deve incontrare munizioni per qui. Nemico a terra. Vengan, hijo di puta! Ho! 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 ci siamo l'unidad sta sparando al cartello l'unidad e i ribelli si stanno sparando addosso cosa vuoi che facciamo elicottero a terra cecchino apro il fuoco sui bastardi i sicari aiutano l'unidad al mio via fuoco ho chiesto rinforzi ai ribelli ricevuto arriva una squadra cecchino a riparo trova un riparo presto merda il cartello ha inviato i rinforzi cecchino a terra cazzo eeeh c'è chi non va a terra a terra eh ma la vedo dura decollare ma ci provo nessun nemico oh cazzo devo farlo da subito stare sono i rinforzi del cartello via ok ragazzi ci vediamo tra 7 km c'è quello che non succede qualcosa di particolare ci vuole un bel coraggio a rischiare milioni di dollari di cocaina su un aereo che sta a malapena in aria no ride furbo a usare aerei di merda se ne perde uno non deve spendere un capitale per rimpiazzarlo e nessuno fa caso a un aereo identico a tutti gli altri della zona ok ragazzi eccoci e non rinnovate a nessuno la vostra destinazione ho avvistato un sicario dove c'è il parcheggio drone in volo ne vedo uno con i mitra bersaglio numero 3 e sono 5 è storia vedo due sicari ditemi dove guardare vedo il compratore occhio con le armi quel pezzo di merda ci serve vivo occhi sul bersaglio bersaglio marcato pronto all'ingaggio ai tuoi ordini fuoco nemico a terra non sei corto di nulla vedi strada da qua fa male silenzio marce però por favor non c'entro io sono un uomo d'affari boston reed dov'è? non so dove sia ok passa tutto dai suoi intermediari io faccio un ordine lui consegna cosa ordini? persone ok uomini donne hai presente? che succede alla gente che compri? dipende le ragazze diventano schiafe gli uomini lavorano ad altri vengono espiantati gli organi sai quanto vale un rene giovane? cazzo paghi in contanti di solito si valigie piene di soldi di solito? l'altra volta ero a corto era un ordine urgente e non avevo contanti ho fatto un bonifico su uno dei conti di reed era incazzato nero cosa ci potevo fare? voglio il nome della banca e il numero di conto si claro te lo scrivo poi abbiamo finito vero? ognuno per la propria strada stiamo iniziando a mettere insieme i pezzi invio i dati della banca a Bowman con quelli e la lista di villaggi presi di mira dagli uomini di reed dovrebbe riuscire a scoprire qualche pista perfetto ragazzi ci vediamo internamente alla prossima missione ciao